Senta Sindaco, si parla molto soprattutto del futuro del Teramo, di quello che accadrà una volta che questo campionato sarà andato agli archivi. Noi ovviamente da Abruzzesi ci auguriamo con il Teramo ancora in Lega Pro. Il primo cittadino come vede questa situazione? È una situazione che comunque preoccupa, che stiamo monitorando, attenzionando per quanto è di competenza di un sindaco e di un'amministrazione. C'è un'interlocuzione diretta ovviamente con tutte le istituzioni cittadine, quelle sportive. Per la fine dell'anno, per la fine della stagione non credo ci siano problemi, come giustamente ricordava lei, dobbiamo costruire ora il percorso futuro. Ci sono diverse interlocuzioni, c'è stato anche un cambio adesso nella gestione della società attraverso le azioni che sono state messe in campo dalla Procura. Quindi guardiamo con fiducia. È chiaro che l'obiettivo è assolutamente tirare fuori il prima possibile le quote del Teramo Calcio, la vicenda del Teramo Calcio e la sua storia e il suo futuro dalla situazione che purtroppo si sta vivendo. Un sindaco aggregatore di forze? Già sentito qualcuno, se possiamo essere un po' indiscreti? Sì, è chiaro che il sindaco può aggregare le forze, può dare stimolo alla comunità in un momento importante, è anche un momento difficile per le imprese, ma è anche un'occasione e un'opportunità di rilancio. Le interlocuzioni ci sono, speriamo soprattutto del territorio. Positive? Ma ci sono delle manifestazioni così di, non dico di interesse, però insomma di informative che dobbiamo assolutamente intensificare, però ripeto, il sindaco non è un'amministrazione che deve fare questi passaggi, può essere un facilitatore di confronti, di incontri, ma è necessario assolutamente che tutti facciano la loro parte e che soprattutto si creino le condizioni affinché la comunità possa dare una risposta a questo momento. Noi facciamo il possibile assolutamente per creare le condizioni affinché ciò avvenga.